Allora, stasera per la seconda puntata di Storia del Cinema abbiamo visto un altro personaggio molto importante, che è la famiglia Spoletini. Non so se tutti sapete che è la famiglia che di solito in Italia gestisce il più grosso numero di comparse di film quando servono le comparse e ha fatto Games of New York, Roma, i titoli sono infiniti, ci ho lavorato anch'io quindi lo conosco bene, Antonio Spoletini che è sempre nei nostri cuori che lavoriamo, adesso io lavoro nelle sale ma lui ancora lavora con il pubblico. Le mattine che invece sono svegliato presto ma lui perché poi ha i rapporti con Scolzesi, con Mimmo Garopresti, con Pupi Amati come si vede in questo film e poi soprattutto in questo film quelle che a me mi prendono più sono tutte rivedere le copie che stanno da qualche parte nei magazzini. Quindi ricreamo e rivetiamo altri aspetti sotto nessun nome nei titoli di coda, altri aspetti di come si fa il cinema, ma dico come poi tante volte anche il cinema c'ha delle belle pause o no. Un film che scorre bene, pensavo che mi appassionasse molto di più, ma comunque sia vale la pena. Il cinema è stato pochissimo, questo purtroppo... E anche come al solito io mi andavo a scegliere i film che stanno al Festival del Cinema di Roma, quelli più particolari, quelli più significativi, perché è competente come chi seleziona i film e poi perché comunque sia chi non conosce gli studi di cinecittà, li può vedere dentro ed è uno spettacolo in umane, bellissimo. Io ci sono stato sia grazie anche a Francesco Rutelli, ad Alessandro Battisti, ma anche grazie ad Antonio Spoletini mi ha passati di tempi da dentro e anche grazie alla mia ex azienda che era dello Stato, la global media SRL. Ma poi soprattutto le scene finali, io l'apprezzo tanto, infatti quello che io e il mio desiderio è che di creare un cortometraggio con io che sto in sala e io che vede i film. Ah, questa cosa mi gasa sempre da morire. E quindi questo, questo film di Amendola, che io non lo conosco, però ce l'ho su Facebook appena io ho scoperto questo film che potevo vederlo, perché io quando c'è stato il lockdown l'avrei voluto vedere in sala, perché io ho tutti i film, anche quelli che sto vedendo adesso e alcune cose mi sarebbero piaciute vederle in sala, però non si può e ancora ci sono tante cose che devo lavorare in sala, poi, poi mamma mia. E quindi questo è il punto, però, insomma, poi ci va alla ricerca di una cosa, come io per esempio, sarei curioso di rivedere tutti i dati di cine, tel, tel, ci sarà mai. E questo film vuol dire anche sperare che prima o poi le cose a forza di passaparola si ottengono. Grazie.